Il maltempo a Nicosia ha condizionato la quattordicesima edizione di Millumino di meno finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico e lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 la campagna avviata a livello nazionale dai microfoni di Rai Radio 2 invita a ridurre al minimo il consumo energetico spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili l'iniziativa è stata pienamente accolta dall'amministrazione comunale che ha patrocinato l'evento ed è stata organizzata dalla Croce Rossa di Nicosia in collaborazione con la ConfCommercio di Nicosia il gruppo FAI di Nicosia, le associazioni sportive Tallin Club, Diavoli Rossi Nicosia, Città di Nicosia, Ruota Libera Nicosia le scuole di balo arabesque danze e passa a due l'istituto di istruzione superiore Alessandro Volta e l'associazione musicale Santa Cecilia Banda e Magiorette San Felice quest'anno l'iniziativa per la seconda volta è stata organizzata a Nicosia il tema di questa edizione era la mobilità sostenibile in particolare la necessità di camminare perché sotto i nostri piedi c'è la terra e per salvarla bisogna cambiare passo questo lo slogan di questa edizione gli organizzatori avevano previsto un raduno in piazza Garibaldi punto di partenza per una passeggiata tra cultura e paesaggio un percorso a piedi di tre chilometri lungo le vie cittadine purtroppo il maltempo ha giocato un brutto scherzo e la manifestazione si è svolta all'interno dell'androne del palazzo comunale dopo che la Banda San Felice ha eseguito alcuni brani ha presentato l'evento Clarissa Cacciato volontario del comitato di Nicosia della Croce Rossa italiana hanno preso la parola anche i rappresentanti delle altre associazioni che hanno organizzato l'evento e ciascuno ha letto il decalogo di mi illumino di meno dieci buonazioni che tutti noi possiamo adottare quotidianamente per contribuire alla causa del risparmio energetico è intervenuto anche il sindaco di Nicosia Luigi Bonelli che ha salutato tutti coloro che hanno organizzato questo evento la serata si è conclusa con una serie di giochi a tema con l'evento che hanno coinvolto tutti i partecipanti a questa iniziativa grazie a tutti